Quelli che fanno le figure o perdono le partite, sia noi come primi, dunque in primis ci sono i giocatori. Ripeto, forse c'è da cambiare proprio l'atteggiamento invece che pensare di vincere e cercare di non perdere. Sì, forse sì, perché dopo aver fatto un precampionato in una Coppa Italia buona, nessuno si aspettava un avvio così in campionato, sinceramente. Adesso siamo solo noi che possiamo tirarci fuori da questa situazione, bisogna unire le forze, siamo la terza giornata, non bisogna abbattersi perché se ci abbattiamo è finita. Bisogna combattere, è difficile, ripeto, forse c'è da cambiare proprio il modo di interpretare le cose, non vuol dire avere paura che, però abbiamo visto che le squadre che stanno facendo i punti sono quelle che si difendono tutte e giocano in contropiede, proviamo a fare così anche noi. Grazie a tutti.